Keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further, keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing. Nuova Seat Tarraco. Why not now? I'm here with Alessandro, Stefano, Matteo, Raimondo. Ciao ragazzi, siamo pronti, sono pronti anche loro da casa, allora io direi di iniziare subito con il nostro tour. Un saluto a tutti, sono Alessandro della Seat Fratelli Giacome. Ci troviamo davanti alla nuova Seat Ibiza 1.6 turbodiesel allestimento FR, cambio automatico 95 cavalli. Versione così configurata con fari full LED, fendinebbia con funzione cornering, cerchi in lega di 17, un interno sportivo con display da 8 pollici, climatizzatore automatico, sensore luci, sensore pioggia, cruise control e comandi a volante per quanto riguarda l'infotainment della vettura. Vete elettrici posteriori, si conclude il tutto con un vetro posteriore oscurato. Il prezzo della vettura esposta è di 20.500 euro più un ulteriore sconto in caso di vettura da permutare in rotamazione. Passiamo ora davanti alla nuova Seat Mi, una versione 1000 Eco-Fuel 68 cavalli, quindi alimentazione esclusiva metano con esenzione del bollo. L'interno è composto da un climatizzatore manuale, display per quanto riguarda le funzioni della radio, supporto per il nostro iPhone o smartphone, vetri elettrici anteriori. Inoltre abbiamo in aggiunta i sensori di parcheggio posteriori. Il prezzo della vettura esposta è di 11.900 euro. Buongiorno a tutti, sono Stefano di Seat Fratelli Giacome a Sago. Vi presento Seat Arona. Questa vettura esposta è un motore diesel 1.6 da 95 cavalli. La vettura nasce con il tetto bicolore, i cerchi in lega da 16 pollici, sensori di parcheggio, in più arricchita con lo style pack, display da 8 pollici con navigatore satellitare, la possibilità del collegamento al telefono tramite Seat Full Link, clima automatico bizzona, accensione automatica e luci tergi, specchietto retrovisore ripiegabile elettricamente e bracciolo. La vettura esposta è un prezzo di riscaldamento di 22.500 euro. La potete trovare con sconti veramente alti anche in caso di rotamazione. Inoltre vi ricordo che questa vettura qua, oltre alla motorizzazione diesel, è presente anche il benzina da 95 e 115 cavalli, 115 8 cavalli con cambio automatico e da oggi anche con la nuova motorizzazione metano 1.0 da 90 cavalli, con la quale potete risparmiare il bollo in quanto viene considerata vettura di alimentazione principale a metano. Vi presento ora Seat Leon. La vettura esposta è un allestimento FR Berlina 1.5 da 150 cavalli, cambio automatico DSG 7 rapporti. La vettura si presenta con un'estetica estremamente sportiva, cerchi lega da 18, vetri posteri oscurati, fanalleria anteriore, full LED, griglia cromata. La vettura inoltre è completa di FR Pack, quadro strumenti digitale, clima automatico bizona con accensione automatica luci, tergi automatici, navigatore satellitare da 8 pollici, con la possibilità di collegare anche quali telefono i seat full link, ruota di scorta da 18, impianto i 5 bits con 18 parlanti, accensione elettronica senza chiave. La vettura esposta è un prezzo di listino di 30.700 euro, la vendiamo a un prezzo scontato di 23.800 euro. Vi ricordo la possibilità di finanziamenti personalizzati, cosciate senza pensieri, leasing e noleggio a lungo termine. Ci siamo spostati ora nell'esterno della nostra concessionaria, di Giacomo e Via Verde 4. Ricordo, su tutte le vetture a chilometro a zero a disposizione, Leon Station Uengo cambio automatico, Leon Diesel cambio manuale, Ateca, Leon Berlina, anch'esse cambio manuale automatico, vetture aziendali come Arona, Ateca, Tarraco, la possibilità attivando il finanziamento, il passaggio proprietà scontato, tassi veramente vantaggiosi. Ben ritrovati a tutti, io sono Raimondo e sono eletto di presentarvi la nuova ammiraglia di casa Seat, la nostra nuova Tarraco. La vettura che vedete qua esposta è un Bianco Oryx, è un 2000 turbodiesel, la versione Excellence da 150 cavalli. In questo caso la versione monta già cerchi da 20, front assist, line assist, riconoscimento dei pedoni, riconoscimento dei ciclisti, riconoscimento della stanchezza. La vettura ha tetto panoramico, portellone posteriore apribile già di serie, cruise control, display digitale, sedili alcantara. La vettura che vi proponiamo è al prezzo di 42.490 euro. Eccoci qua accanto all'auto più sportiva di casa Seat, è una Cupra, è una versione 2000 benzina da 300 cavalli. La versione in questo caso ha cerchi bruniti, freni Brembo, tetto panoramico, tutti i sistemi di sicurezza più all'avanguardia di casa Seat. È una vettura a chilometri zero che vi proponiamo a 44.490 euro. Vi ricordo le nostre porte aperte che saranno il 17 e il 24 di marzo, quindi il mese in corso. A questo punto passo anche la parola al mio collega Davide. Grazie Raimondo, benvenuti in Audi Prima Scelta Plus, sempre da Fratelli Giacomele. Iniziamo subito con un Audi A6 Berlina, 2000 turbodiesel, 190 cavalli, quattro ruote motrici. Vettura con soli 21.000 chilometri del 4 2018 ad un prezzo di 40.500 euro. Andiamo avanti con un Audi A6, questa volta Station Wagon, sempre una vettura aziendale di aprile 2018, vettura che ha percorso solamente 1.900 chilometri e la offriamo ad un prezzo di 42.900 euro. Queste vetture sono vetture Audi Prima Scelta Plus, sono garantite 48 mesi e facciamo 110 controlli per garantirvi al massimo la vettura. Continuiamo con A6 Avant, 3000 turbodiesel 4, anche lei vettura a cambio automatico da 272 cavalli. È una vettura di febbraio 2016, ha percorso 125.000 chilometri, vettura garantita 24 mesi e la proponiamo ad un prezzo di 28.500 euro. Tutte le vetture che vedete sono vetture che potete pagare comodamente nel tempo ed accedendo al finanziamento a tasso agevolato, il primo tagliando ve lo regaliamo noi. Continuiamo con un'altra fantastica Audi A6 Station Wagon, anche lei, 3000 turbodiesel 4 S-Tronic, vettura da 272 cavalli di agosto 2017, ha percorso solamente 22.300 chilometri, vettura ricca di accessori, 4 anni di garanzia, chilometraggio illimitato e la proponiamo a 39.900 euro. Andiamo avanti con Audi A6 Avant, 3000 turbodiesel 4, anche lei, 245 cavalli, vettura di ottobre 2013, ha percorso solamente 64.000 chilometri, è una vettura che noi proponiamo a 25.500 euro. Continuiamo con una fantastica Audi A7 Sportback, 3000 turbodiesel ultra, cambio automatico S-Tronic, vettura di gennaio 2016 ha percorso solamente 22.200 chilometri, colore grigio tornado, faro full LED, cerchio in lega da 19 interni in pelle e tetto panoramico in cristallo. Questa vettura la proponiamo a 38.900 euro. Andiamo avanti con una fantastica Audi A7. Questa vettura è grigio da Ittona, è una 3000 biturbo da 320 cavalli, vettura di luglio 2015, ha percorso solamente, pensate, 46.800 chilometri, una vettura che proponiamo a 41.900 euro. Questa è veramente una chicca. Andiamo avanti con un'altra Audi A7. Questa è sempre una 3000 turbodiesel, versione Business Plus, vettura che ha percorso solamente 10.000 chilometri. Una vettura che proponiamo a 42.900 euro. Passiamo adesso a un'altra Audi A7. Nuovo modello. Questa vettura è una 3000 turbodiesel, ha percorso solamente 15.800 chilometri. Vettura di marzo 2018. È una vettura ricchissima di accessori, tra cui l'impianto audio Ben Goldsen, fari full LED Matrix. Questa vettura noi la proponiamo ad un prezzo di 73.900 euro. Anche questa vettura gode dei 48 mesi di garanzia Audi Prima Scelta Plus e finanziamenti tassi agevolati. Continuiamo ancora con un Audi Q2. 2000 turbodiesel, quattro ruote motrici, 190 cavalli. Colore rosso tango, fantastico, con interni neri e rossi. Vettura di febbraio 2018, ha percorso solamente 12.000 chilometri. È una vettura che noi proponiamo a 31.500 euro. Vettura che gode dei 48 mesi di garanzia Audi Prima Scelta Plus. Continuiamo con un'altra fantastica Q2. 1.6 turbodiesel, 116 cavalli, allestimento Sport. È una vettura color giallo Vegas, di giugno 2017, ha percorso solamente 12.400 chilometri. Anche lei vettura che rientra nel programma Audi Prima Scelta Plus. Andiamo avanti con un'altra fantastica Q2, Bluara. Come vedete ci piacciono i colori. È una 1000 benzina cambio automatico da 116 cavalli. Una vettura che ha percorso solamente 15.000 chilometri. Noi la proponiamo ad un prezzo di 32.500 euro. Anche lei rientra nel programma Audi Prima Scelta Plus. Ricordiamo finanziamenti tassi agevolati e se accedete al finanziamento il pacchetto manutenzione lo regaliamo noi. Stiamo arrivando alla fine della nostra puntata e come di consueto vi lascio con tre chicche. RS3, RS4 ed RS5. Non posso far altro che invitarvi presso il nostro showroom per visionarle e toccarle con mano. Il nostro appuntamento termina qui. Direi che abbiamo fatto un bel tour panoramico da Fratelli Giacome e la D'Assago in Via Verdi. Caro Davide, io ringrazio te e ringrazio tanto anche i tuoi colleghi. Come concluderesti questo appuntamento di oggi? Guarda, concluderei ricordando che su Audi Prima Scelta Plus ci sono sempre 48 mesi di garanzia, finanziamenti tassi agevolati e soprattutto se le persone decidono di pagare la loro vettura comodamente nel tempo il primo servizio di manutenzione ve lo regaliamo noi. Poi vediamo se riusciamo a fare anche qualche tipo di omaggio. Comunque siate fisuziosi, veniteci a trovare, venite a visitare tutte le nostre sedi e tutti i nostri padiglioni. Vedete? Di avere tutti e cinque i marchi, comprese due marchi dell'usato. Vedete come vi trattano bene, quindi mi raccomando tutte le attenzioni sono rivolte proprio a voi e allora noi, ma soprattutto loro vi aspettano qui da Fratelli Giacomele e non perdete l'occasione.